Ciao a tutti da Flora, questo regalo me l'ha regalato mio amico al mio compleanno che ci sono i specchietti con tutti i fiorellini e tutto e proviamo a farlo faremo un altro casino no perché ci sono dei fiorellini e uno specchio io e te facciamo sempre casini dai proviamo ad aprire ti aiuti? vai tira tira forte ok cosa c'è lì dentro? allora c'è le istruzioni ma ci servono perché quale devo mettere? ah lì ci sono tutti gli esempi su come farli il primo è questo che ci devi mettere il numero uno nero ah ma ha fatto tipo a strati? ah si adesso posso decidere quello che voglio fare ah se vuoi fare quello a fiore o quello a tondo? non ce ne sono più ma bello questo fiore mettiamo qua tanto dopo vabbè togli quello che non vuoi usare usiamo quello che vuoi usare colume e queste qua ci servono tiriamo fuori tutto ok così se debbiamo cercare lo bisogna cercare nel sacchetto no io tiro tutto fuori e lì dentro dove c'è? tutti i fiorellini con le robe lì ah quelli da fattarci vediamo la libellula le foglie questa cosa vanno allora allora iniziamo da questo ehm questa cosa il numero uno questo qua però bisogna iniziare da qua penso qua così adesso questa pallina si appiccica sono uguali? si e mettiamo così schiacciamo quelle lì sono tipo colla? si si sono tipo degli adesivi che stacchi questa plastilina li prendi e li attacchi dove devi mettere adesso facciamo il tuo questo foglio qua no ci serve questa si questa due aspetta secondo me però dovresti attaccare in tutti gli uno prima le foglioline queste qua che hai deciso di attaccare e poi in tutti i due quelle in tutti i tre in tutti i quattro quelle giusto? si bravo bravissimo non me lo ricordavo mica quello che hai deciso di attaccare quello è due si in tutti gli uno devi attaccare quelle foglie oliglie lì lo appiccico dov'è l'altro uno? qua e attaccare questo sai cosa facciamo? andiamo un po' facciamo un po' un pezzo e poi facciamo vedere quando siamo a metà strada va bene se no diventa lunghissimo ci vuole un po' farlo questo monoretto eh è vero? si ora stiamo andando un po' avanti vero? si perchè mettiamo tutti i miei cosi ecco e e girare un pochino che almeno non va sopra l'altro no? bravo però lì c'erano va bene uguale vabbè dopo dopo lo guardiamo e se lo prendiamo non so ce ne ancora uno vai grande carino mi mancano quattro e guardiamo lì ho chiamato i need 3 i i i i i i un vai ne manca uno davvero? si vediamo un po' si vedono ancora un sacco di numeri però sai cosa facciamo? guarda eh oh si vediamo le cose le foglie esatto così nascondiamo un po' di numeri cosa dici? è qua tieni che ne passo uno che te lo faccio vai piccicati un po' di foglioni così nascondiamo un po' di numeri eh si vediamo come è venuto tiralo un po' su insomma eh cosa dici? vabbè dai cari facciamo una cosa vai su in cameretta a prendere quello che hai fatto con la mamma così facciamo la differenza facciamo vedere aspetta facciamo vedere la differenza tra quelli che facciamo io e te e quelli che fai con la mamma che la mamma è più brava quello che hai fatto con la mamma? eh si quello è bello si e guarda questo uno l'hai fatto con papà e uno l'hai fatto con la mamma si qual'è più bello? eh questo direi è venuto decisamente meglio vedere no tutte e due però eh questo qua è con tutto e questo qua solo con le foglie e si vede ancora un po' di numeri e non con nevele papi vabbè però come al solito ci abbiamo provato vero? siamo stati bravi? si saluta a tutti ciao ciao da flora